In questo video vedremo quali sono i 5 errori da evitare quando cambiamo il nostro stipendio da franchi svizzeri in euro. State fino alla fine perché il quinto errore lo fanno davvero in tantissimi. Primo errore, bonifici diretti da un conto in franchi svizzeri ad un conto in euro. Molti frontalieri pensano che fare un bonifico dal loro conto in franchi svizzeri al loro conto in euro sia la soluzione più veloce. Attenzione, questo metodo può costare fino al 4% dell'importo trasferito, tra tassi di cambio sconosciuti e commissioni bancarie extra UE. La Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, quindi preparatevi a pagare tra i 10 e i 40 euro solamente per ricevere il bonifico. Secondo errore, usare carte svizzere in Italia. Pagare o prelevare in Italia con una carta emessa in Svizzera è un altro errore molto comune. Ogni transazione può comportare dei costi fissi, oltre che un markup del 2,5% sul tasso di cambio. Utilizzate sempre la vostra carta solamente nella nazione e nella valuta in cui è stata emessa per evitare queste spese. Terzo errore, cambiare contanti in euro. Alcuni frontalieri preferiscono prelevare i contanti in Svizzera e cambiarli in euro in Italia. Questo metodo è inefficiente e rischioso. Tra spese di viaggio, tempo perso e rischi di furto si aggiunge il fatto che il cambio in contanti offre tassi peggiori. Inoltre potreste incorrere in problematiche con le normative antiriciclaggio. Quarto errore, trasferimenti interni tra conti franchi ed euro. Molte banche svizzere offrono conti in euro permettendo trasferimenti interni. Tuttavia questi trasferimenti hanno costi nascosti, con tassi di cambio sfavorevoli che possono arrivare addirittura al 2%. Non fatevi ingannare dalla comodità apparente. Quinto errore, questo è davvero molto comune, conti in franchi svizzeri presso banche europee. Alcune banche europee offrono conti in franchi svizzeri, ma attenzione ai costi mensili elevati e alla difficoltà di gestione di piccole spese quotidiane. Inoltre molti datori di lavoro non sono disposti a fare bonifici verso banche estere. Questi erano i 5 errori più comuni, ma qual è la soluzione migliore per cambiare il nostro stipendio? Il cambio online. Per esempio cambiavalute.ch permette di cambiare il proprio stipendio senza dover aprire nuovi conti o nuove carte, evitando così commissioni e garantendo il miglior tasso di cambio. www.cambiavalute.ch andate a provare il servizio, è veramente immediato. Per i nuovi clienti è previsto un bonus di 25 euro per operazioni di almeno 3.000 franchi.